Lunedì si apre la settimana d'azione contro il rassismo promossa dalla Presidenza del Consiglio. Il 21 marzo infatti tutto il mondo celebrerà la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Per questo chiediamo a tutti i tifosi viola di unirsi a noi nel dire no a rassismo. Prima del fischio di inizio di Fioratina Genova, mostrate il nostro carterino rosso. E speriamo insieme il rassismo dal calcio.